Quello che è stato è stato basta, ricominci da tre Mister buonasera, Alberto Chiaccio, Corriere dello Sport Da zero, da zero, ricominci da zero Con una squadra così giovane, anche se non rinnovata tanto, cambiano anche i suoi stimoli? A 56 anni ha trovato nuovi stimoli da dare a questi ragazzi o... Cacca ha già ricominciato da zero, da tre Cioè, da dove arriva tutta sta spinta? No signor, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riusciti in Davide perché ha già perduto pure questo? Arriva il fatto che comunque... Ripeto, io credo che un allenatore debba sfruttare meglio le caratteristiche dei giocatori Che cosa? Ripeto, io credo che un allenatore debba sfruttare meglio le caratteristiche dei giocatori C'è vita oltre la vita? Giocatori esperti che hanno un palleggio, che hanno un lettore della partita, della situazione Giochi, cerchi di giocare in un certo modo Siamo soli nell'universo I giocatori, comunque, diciamo con meno esperienza, che provano gamba Poi li possiamo allenare tutta la settimana, bisogna spingere Da dove veniamo? E dove stiamo andando? Bisogna spingere, bisogna spingere Miracolo! Miracolo! Sorelle! Che miracolo! Miracolo, sorelle! Bisogna spingere Miracolo, miracolo! Bisogna spingere Miracolo, miracolo, sorelle! Bisogna spingere